Che differenza c'è tra rendimento reale e rendimento nominale? Se non ti è mai sorto questo dubbio, presta molta attenzione a ciò che ho da dirti oggi. Ciao, sono Davide, sono un consulente finanziario indipendente e aiuto le persone a raggiungere i propri obiettivi sfruttando correttamente i mercati finanziari. Oggi continuiamo il percorso cominciato con i video precedenti. Se non li hai vissi, ti lascio qua il link in alto. Abbiamo visto come l'investitore bambino si focalizzi solo ed esclusivamente sul rendimento tralasciando tutto il resto, ma il rendimento che cerca è reale o nominale? Iniziamo a capire la differenza con un semplice esempio. Se prendiamo una banconotta da 10 euro sopra verrà riportato il suo valore nominale, 10 euro. Esso è costante e non muta nel tempo. Esso non varierà nel tempo, riporterà sempre l'indicazione 10 euro. Ma se un tempo con quei 10 euro poteva acquistare due biglietti del Cina, mentre oggi ne potrò acquistare solo uno, nel frattempo il suo valore reale è cambiato, anche se sopra ci sarà sempre riportata l'indicazione 10 euro. Questa differenza tra valore reale e valore nominale è dovuta all'inflazione. Infatti nel corso del tempo il prezzo di beni e dei servizi tende a aumentare, portando così a una perdita di potere di acquisto. Negli anni 70 era possibile sottoscrivere delle obbligazioni con un rendimento nominale del 13%, ma l'inflazione di periodo era del 20%, questo ha attirato moltissimi investitori inconsapevoli. Oppure possiamo trovare una banca che ci offre un contodeposito del 3%, ma magari l'inflazione in quel periodo è del 7%, quindi quel rendimento nominale del 3% non si traduce in un rendimento reale, anzi in questo caso non state guadagnando ma state perdendo. Come potete vedere il rendimento nominale non corrisponde al rendimento reale, per poter scoprire qual è il rendimento reale bisognerà perlomeno sottrarre l'inflazione e le tasse. Vi proporò un ulteriore esempio sull'investimento preferito dagli italiani, il mattone. Come abbiamo visto l'inflazione nel corso del tempo erode il nostro potere di acquisto. Basti pensare che 15.000 euro di oggi hanno lo stesso potere d'acquisto o valore reale di 10.000 euro dei primi anni 2000. Se non ci credete potete andare sul sito inflationtool.com e fare le vostre simulazioni. Ne consegue che se nel 2002 avessi acquistato un alloggio a 100.000 euro e lo rivendessi oggi a 145.000 euro, a livello nominale avrei guadagnato 45.000 euro, ma a livello reale non avrei guadagnato nulla, sarei andato in pari, cioè sarei riuscito a proteggermi solamente dall'inflazione, e questo senza contare le tasse e le commissioni. Per oggi abbiamo finito, spero di essere riuscito a farvi comprendere la differenza tra rendimento reale e un rendimento nominale, così la prossima volta che incontrate un venditore di rendimenti sarà molto più complesso per lui riuscire a convincervi. Il rendimento fine a se stesso non può essere l'obiettivo del nostro investimento, ricordatevi che bisogna investire per proteggere il nostro potere di acquisto e per combattere il nemico numero uno, cioè l'inflazione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale così da migliorare la vostra consapevolezza negli investimenti. Un saluto dal vostro consulente di fiducia.